L'ultima volta che ho parlato della storia di un marchio agricolo riguardava Deutz mentre un paio di anni fa ho coperto Same e Lamborghini da un punto di vista diverso perché mi sono concentrato di più sulla storia dei loro fondatori e un po' meno sui nudi trattori ma comunque possiamo dire che Deutz Bar, Lamborghini e Same sono coperti Chi manca? E manca Hurliman! Sì Gianni, però si dice Hurliman o meglio Hurliman Un marchio di trattori che per tutto il Novecento ha costruito mezzi di grande qualità nonché l'ultimo marchio del gruppo SDF che ci resta da trattare E scusa capo, apri il sito SDF, c'è anche la Gregorua? Non è solo Hurliman, manca, manca Uh Gianni, che puntiglioso! Vuoi che ti riassuma velocemente la storia di Gregorua? Beh, è un produttore di macchine per la viticoltura che produceva macchine per la viticoltura fino a quando Deutz Bar non l'ha acquisita e ora produce macchine per la viticoltura nel gruppo SDF Basta! Anche perché nel sito della Gregorua non c'è neanche la sezione storia Sarà perché non vogliono che se ne parli? Oh va bene Phil, ma calmati dai Fai la classica presentazione a macchinetta del canale e partiamo dai! Va bene, allora dai, io sono Filippo e vi do il benvenuto in questo nuovo video storico qui su Agricoltori Simpatizzanti Ma non solo storia, infatti in questo canale potete trovare anche agronomia, zootecnia, silvicoltura, chimica di tutto, tutto raggruppato in questo grande canale YouTube Ma non solo YouTube, infatti c'è anche Instagram con curiosità e le foto dei nostri mezzi agricoli C'è anche il sito viola delle live con trasmissioni estemporanee E ultimo ma non meno importante c'è anche Spotify con In Cabina il nuovo podcast nel quale parliamo di agricoltura in tutte le sue sfaccettature Sono già uscite due puntate, abbiamo parlato di landini in testa calda e di canapa industriale Sempre robe molto interessanti E già vi anticipo che settimana prossima, domenica alle 20.30 potremmo incontrare il direttore della rivista Trattori E cioè questa rivista qui, con noi parleremo di come si gestisce tutto questo business e parleremo anche del premio Trattore dell'anno che è gestito proprio da loro Sei anche bravo a fare marchette sai, però ora vorrei sentire un po' di storia di sto marchio E non ne parla nessuno Hai ragione Gianni, di tutti i marchi del gruppo SDF Urban Man è sempre quello più scartato e quello che raccoglie meno interesse da parte del pubblico Però nonostante la sua storia che è anche relativamente breve questo marchio nasconde diverse cose interessanti che adesso andiamo a scoprire La vita di questo marchio inizia nel 1929 quando Hans Hurlman, un meccanico tedesco di origini contadine realizza nel suo garage a tempo perso un trattore e lo chiama 1K8 Era un trattore monocilindrico a benzina raffreddato d'acqua un progetto semplice ma curato nei minimi dettagli montava un motore Bernard R3 prodotto in Francia che sviluppava la cifra folle di 8 cavalli con 3 marce avanti e una indietro e spesso montava una falciatrice laterale infatti l'idea principale e iniziale di Hans era quella di realizzare una falciatrice per rispondere ai bisogni dei contadini svizzeri proprio appunto di falciatrici che possono andare su per quelle pendenze incredibili però nel sviluppare il trattore ha visto che forse metterci un gancio traino e renderlo più trattoristico non era una brutta idea quindi ha fatto un ibrido tra la falciatrice e il trattore e questo ibrido in termini meramente economici non era per nulla male anzi ne sono stati prodotti 400 esemplari che sono un numero veramente grande soprattutto per un contadino che si fa ai trattori nel capanno dei rastrelli direi di no, è veramente bravo Hans, complimenti si Gianni e ci ha anche visto lungo infatti dopo aver presentato l'1K10 evoluzione dell'1K8 ma con due cavalli in più tanto per mungere ancora di più la vacca del successo ha preso in mano Cazzuola e Secchio della Malta e ha iniziato la costruzione di uno nuovo stabilimento a Will nel Caton Sangallo i lavori per questo stabilimento finirono nel 1939 un anno veramente proficuo per l'azienda infatti in questo stesso anno Hans ha depositato il brevetto per un nuovo sale anteriore ad ampio raggio di sterzata che venne montato nel primo trattore quattro cilindri prodotto da Hurleyman il 4DT45 da 18 cavalli con iniezione diretta i trattori che uscivano dalla fabbrica di Hurleyman erano completamente fatti a mano niente catene di montaggio niente di preassemblato ad Hans piaceva costruirsi da solo il proprio trattore dalle viti al parafango al volante tutto e questa cura dei dettagli si fece ripagare infatti questi trattori erano dei ferri incredibili resistenti, durevoli e dall'estetica decisamente molto curata sicuramente meglio del Belarus queste caratteristiche gli valsero il soprannome di Royce Royce dei trattori per i contadini più ricchi e sboroni oh c'è da dire ragazzi fighi erano fighi guardateli cioè neanche da mettere con un marchio tipo che ne so Yamar che va che schifo però proprio anche questo abbinamento di rosso e di verde fa la sua porca figura niente da dire però noi torniamo alla storia infatti siamo nel 1939 e immagino tutti voi sappiate già cosa succede da ora o no? adesso succede che inizia la guerra Hurleyman deve far fronte allo sforzo bellico non fa più i trattori solita storia eh no Gianni io qui ti frego infatti gli svizzeri sono ah i svizzeri sono il paese più neutrale del mondo dovrebbero sostituire la croce con il suolo bianco guarda esatto quindi per questa volta in questa storia niente sforzo bellico niente riconversione da produzione di trattori a produzione di proiettili l'unica cosa che hanno fatto in fabbrica è stata una piccola riconversione dei trattori usciti in quell'anno infatti durante la guerra uno dei pochi effetti sulla Svizzera fu la mancanza di materie prime come il gasolio o la benzina e per questo i trattori usciti in quegli anni dalla fabbrica della Hurleyman montavano un impianto gassogeno scusa un cosa? un gassogeno e cioè un impianto per la produzione di gas a partire da legna o carbone e questo gas veniva utilizzato come subrogato alla benzina infatti i classici motori a benzina e a gasolio potevano essere modificati in modo abbastanza semplice per funzionare a gas ad esempio diminuendo il rapporto di compressione e modificando anche il rapporto aria combustibile in questo modo si poteva ovviare alla scarsità di petrolio in Svizzera ma non pensate che questa qui sia la soluzione delle soluzioni infatti i motori a gas realizzati in questa maniera non erano neanche da mettere in termini di potenza rispetto ai corrispettivi motori termici infatti veramente facevano schifo però almeno la macchina andava avanti poi tra l'altro immaginate dover arare un campo intero con una pila di legna al lato perché devi fare benzina al trattore cioè alla faccia della deforestazione sul serio in pratica per quegli anni si era ritornati indietro al motore a vapore però oh ragazzi se non c'è brum brum non si va avanti quindi in qualche modo si dovrà pure trovare no? ad esempio a Roma durante il conflitto gli autobus di linea andavano tutti quanti con questi impianti a gas e così funzionavano anche le ruspe, le macchine e i trattori non guardatemi male eh, o così o con la vanga, decidete voi ma come ben sapete nel 1945 la guerra finisce e piano piano questi brutti impianti a gas se ne vanno fuori dalle scatole e visto che siamo nel paese più neutrale del mondo non c'è nulla da ricostruire a casa Hurleyman anzi decidono di ampliare lo stabilimento per implementare la produzione ed aumentare le esportazioni nel 1946 viene presentato il D100 il primo trattore ad essere equipaggiato di un motore realizzato interamente nella fabbrica di Hurleyman con 4 cilindri e 4 mila di cilindrata e che sviluppavano 45 cavalli si tratta di un modello che ha subito diversi aggiornamenti sia estetici che meccanici che lo hanno portato però fino a ben oltre gli anni 60 facendo la fortuna di questo marchio nel dopoguerra la produzione di questa piccola fabbrica svizzera fu sorprendente ed oltre alla produzione del D100 vennero presentati anche il D50 da 23 cavalli e l'H12 un trattore da 32 cavalli con un motore molto robusto che poteva funzionare sia a petrolio che a benzina che a gel igienizzante per le mani di solito questa battuta qui la facevo con i rumbacardi ma da un anno e mezzo a questa parte la musica è cambiata ma non solo trattori e nel 1950 i Hurleyman brevettano un erpice ed essendo Hurleyman non è un erpice qualsiasi ma un erpice motorizzato in grado di lavorare anche 6.000 metri quadri in un'ora nello stesso anno uscì anche il D600 da 70 cavalli un trattore che riscosse un enorme successo soprattutto nei mercati del Sud America un enorme successo sì ma niente se paragonato al successo del suo successore il D90 sicuramente il mezzo più fortunato e conosciuto del marchio uscito nel 1959 e interamente prodotto a Will nello stabilimento Hurleyman dal motore alla frizione alla trasmissione alla sale all'impianto idraulico hanno fatto tutto loro anche i bulloni si nadia che i bulloni venissero confezionati da Hans Hurleyman la notte prima di andare a letto e a proposito di Hans proprio questa sua filosofia di mettere davanti tutto la qualità tralasciando la quantità producendo un numero limitato di trattori ogni anno fece la fortuna di questo marchio considerato come ho già detto la Royce Royce dei campi e amato da tutti gli agricoltori svizzeri per la qualità dei loro prodotti Hans però era anche un convinto innovatore e cercava sempre dei nuovi sistemi e dei nuovi mezzi che potessero anticipare il mercato fu così che nel 1969 uscì uno dei primi trattori ad alta potenza del mondo raggiungendo i 155 cavalli con l'H6 equipaggiato con un motore 6 cilindri e con la prima presa di forza idraulica da 540 o da 1000 g al minuto mentre pochi anni dopo furono introdotte nuove trasmissioni a 6 marce e 3 gambe che integrate ad un rassale anteriore ZF permettevano di creare dei trattori a trazione integrale mentre per dimostrare ancora una volta la voglia di questa azienda di innovare nel 1972 venne presentato il primo trattore con motore turbo con il D115T mentre qualche anno dopo nel 1976 con un anticipo abissale e quasi eccessivo come dimostrato dal fatto che rimase un prototipo uscì il T14000 un trattore da 150 cavalli con una trasmissione a variazione continua cioè ci rendiamo conto variazione continua nel 1976 FendKi? Kii? Scusa non ho capito? Varati ma non era tutto rosa e fiori infatti a fine anni 60 morì il fondatore Hans Hurleyman e l'azienda iniziò un lento inesorabile declino fino al momento nel quale i suoi successori contattarono i successori di un altro grande nome della meccanizzazione agricola e cioè Francesco Cassani e in quel momento nel 1979 nacque la Same Lamborghini Hurleyman infatti l'azienda di Treviglio aveva già acquistato Lamborghini nel 1973 e con l'acquisto anche di Hurleyman il gruppo SLH divenne il secondo produttore europeo di trattori in tutto questo si Hurleyman smise di esistere come realtà singola e a sé stante però guardate il lato positivo il marchio continua ad esistere i lavoratori sono ancora all'interno della fabbrica e dalla fabbrica continuano ad uscire trattori pensate che è brutto se Hurleyman fosse fallita e se la fabbrica di Will fosse stata acquistata da un produttore di padelle antiaderenti cioè non una fine gloriosa direi eh da questo momento in avanti i trattori di Hurleyman saranno la copia color verde oliva colore del tutto discutibile dei trattori di Lamborghini e di Same perdendo quindi la dimensione artigianale che contraddistingueva questo marchio ed iniziando la costruzione di trattori in serie e con pezzi preassemblati per questo Hans si sta ancora rivoltando nella tomba ma che ci vuoi fare? questa è la vita ripercorrendo velocemente gli anni dal 1979 al 2021 anche perché sinceramente è una storia che abbiamo già visto negli altri video e come ho già detto la filosofia del marchio è ormai persa quindi fa male qui sentire queste storie comunque dicevo ripercorrendo la scalata verso i giorni nostri troviamo nel 1985 la serie H una serie che copreva tutti i range di potenza da 54 a 165 CV e che per i primi anni montava motori Hurleyman per poi passare a motori Sam & Miller raffredati ad acqua nel 1991 viene invece presentata la gamma Master dotata di trasmissione electronic power shift si tratta di una serie di trattori ad alta potenza che aveva come ammiraglia il Master 190 che tra l'altro è il corrispettivo del Titan 190 o del Lamborghini racing 190 ecco diciamo che in quegli anni in SLH non avevano le risorse per potersi permettere chissà quanti progettisti quindi hanno fatto un progetto e l'hanno usato per tutti i trattori di tutte le marchi di tutte le cavallerie e quando vi chiederanno cosa vuol dire ottimizzare mostrate di questo e andate sul sicuro quattro anni più tardi come sapete già se avete visto questo video qui il colosso giga galattico tedesco Krug & Humboldt Deutz si sfalda fa un po' di tramacci e vende una delle sue aziende la Deutzfar al gruppo Same che diventa SDF Same Deutzfar e già dal nome si intuisce la grandissima importanza che aveva Hurlman per questo gruppo e un po' dispiace perché nonostante sia un'azienda piccola piccola dalla storia tutto sommato noiosa porta con sé un bel bagaglio di valori infatti questi Rolls Royce dei campi non erano solo dei trattori dall'estetica molto curata ma dei contenitori all'interno dei quali era cerata la filosofia di Hans Hurlman una filosofia che è incompatibile col mercato che si è creato negli ultimi anni e se il mercato non è stato in grado di mantenere riva questa visione dell'industria spero almeno di esserci riuscito io infatti vi chiedo quanti di voi prima di questo video conoscevano la robusta eleganza dei trattori Hurlman di una volta? oh guarda io non sapevo manco che esistesse questa dita qua la Hurlman però devo dire che è figo sapere qualcosa di nuovo cioè lo racconterò al bar del paese prossima volta che vado a guardare la partita che adesso siamo pure passati in semifinale pensa a te però dimmi una roba dopo il 95 che è entrata la Deus cosa ha fatto la Hurlman? beh vedi Gianni nel 1999 escono la serie XT e la serie SX che rimangono per più o meno 10 anni gli unici trattori prodotti nella fabbrica di Will fino al 2011 anno nel quale ritorna in vita una vecchia pensata della Hurlman di cosa sto parlando Gianni? ah si 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 della variazione continua forse che i crocchi lì avevano già fatto un prototipo tipo 50 anni fa si Gianni ed esattamente a 35 anni dalla presentazione del T14000 viene finalmente prodotto il primo vero e proprio trattore Hurlman con cambio a variazione continua mentre due anni dopo vengono presentate la nuova serie XA e la nuova serie XM trattori con i quali viene abbandonato quello schifo di colore verde oliva e ritorna il classico verdone sul sito dicono verde amaranto che viene abbinato al rosso come ai bei vecchi tempi o no Gianni? si bello tutto ma non ho noti somiglianze somiglianze con cosa Gianni? beh guarda ste tre foto in sovimpressione e dimmi te no? vabbè Gianni è inutile rimarcare sempre il stesso concetto ottimizzazione Gianni ottimizzazione un concetto totalmente in contraposizione con quello che pensava Hans 100 anni fa ma un concetto che ci permette di avere ancora tra noi dei trattori marchiati Hurlman sperando nel loro ritorno in grande stile che secondo me non succede ma si succede e con questa speranza per il futuro si conclude anche questo video storico io vi do appuntamento a settimana prossima con il podcast in cabina con il direttore dei trattori che avrà poi ricaricato in settimana in questo canale poi ci vedremo domenica dopo con altri video altre cose molto interessanti per il resto vi do appuntamento su Instagram nel quale ogni giorno escono nuovi post o con le vostre foto dei vostri mezzi che potete inviarmi in messaggio privato o con curiosità a tema agricolo poi per il resto c'è anche il sito viola delle live dove vi ho detto potete vedere trasmissioni estemporane o le trasmissioni del podcast che poi viene ricaricato su Spotify podcast in cabina podcast in cui parliamo dell'agricoltura ormai l'avete sentito in tutte le salse io vi saluto vi invito a cliccare i video che stanno comparendo qui in sovraimpressione perché sono video miei fatti da me e molti interessanti ve li consiglio per il resto ci vediamo domenica prossima ciao